La signora Orell era economa. Conosceva il valore di un soldo e possedeva un arsenale di regole precise sul modo di moltiplicare il denaro. La sua domestica, c'era da esserne sicuri, durava molta fatica a fare la cresta sulla spesa e con estrema difficoltà il signor Orell riusciva ad ottenere qualche spicciolo per le sue piccole spese. Eppure erano persone agiate e senza figli. Ma per la signora Orell era un grosso dispiacere vedere uscire di casa le monete d'argento. Era come le facessero il cuore a pezzi e ogni volta che era costretta a sostenere qualche spesa impegnativa, anche se indispensabile, la notte seguente non era riuscita a chiudere occhio. Orell ripeteva di continuo alla moglie «dovresti avere la mano più larga dal momento che non consumiamo mai neanche le nostre rendite». Lei rispondeva «non si sa mai quel che può succedere. Più soldi ci sono da parte e più si sta tranquilli». Era una donnetta sui quaranta, volitiva, ordinata, dal viso precocemente rugoso, pulita e facilmente irritabile. Suo marito si lamentava sempre delle privazioni che lei lo costringeva a sopportare e di alcune soffriva particolarmente perché toccavano la sua vanità. Era archivista capo al Ministero della Guerra e vera rimasto solo per ubbidire alla moglie e aumentare le rendite familiari. Per due anni era andato in ufficio con lo stesso ombrello rattoppato che faceva sorridere ai suoi colleghi. Stanco di essere preso in giro, aveva ingiunto alla moglie di comprargliene uno nuovo. Lei ne aveva acquistato uno da otto franchi e cinquanta in offerta di liquidazione di un grande magazzino. Vedendolo con quel buffo arnese, gli impiegati avevano ricominciato a prenderlo in giro e Orel ne soffriva tremendamente. L'ombrello non valeva niente. In tre mesi era già da buttare. Le risate scossero tutto il Ministero. Fu ideata persino una canzoncina che veniva canticchiata continuamente in ogni istanza dell'immenso edificio. Orel fuoribondo ordinò alla moglie di comprargli un ombrello nuovo di seta pura da venti franchi e di mostrargliene la fattura. Lei ne comprò uno da diciotto franchi e mentre lo consegnava al marito, paonazza di rabbia, disse «Ci devi andare avanti almeno per cinque anni». In ufficio Orel trionfante ottenne un gran successo. Alla sera al ritorno la moglie osservò l'ombrello tutta preoccupata. «Non dovresti lasciarlo così stretto dall'elastico. La seta si può trinciare. Sta attento a trattarlo con cura, perché non te ne ricomprerò uno tanto presto». Lo prese, sciolse il fermaglio e scrollò le pieghe, ma rimase basita dalla rabbia. Un buchetto tondo, grande come un centesimo, appariva nel bel mezzo della seta. Una bruciatura di sigaro. Farfugliò. «Che cos'è questo?» Senza guardare il marito rispose placido. «Questo? Che? Che cosa stai dicendo?» Lei era soffocata dalla collera, tanto da non riuscire nemmeno a parlare. «Tu, tu! Hai dato fuoco all'ombrello. Sei impazzito? Vuoi mandarci in rovina?» Lui si girò verso di lei, impallidendo. «Che stai dicendo?» «Dico che hai bruciato l'ombrello. Guarda qui!» Lanciandosi su di lui come per picchiarlo, gli mise sotto il naso con violenza la minuscola bruciatura rotonda. Davanti a quel disastro lui murmurava smarrito. «Che cos'è? che cos'è? Io non ne so niente. Non ho fatto niente, te lo giuro. Che ne so io di quel che è capitato all'ombrello.» E allora lei si mise ad urlare. «Io scommetto che ti sei messo a fare il buffone in ufficio. Mi avrai fatto il pagliaccio, come il solito. L'avrai aperto per farlo vedere e...» Rispose. «Ma io l'ho aperto una sola volta, per far vedere com'era bello. Te lo giuro, è la verità.» Lei batteva i piedi fuori di sé. Gli fece una di quelle piazzate, che rendono la vita coniugale più pericolosa per l'uomo pacifico e un campo di battaglia percorso dai proiettili. Lo rattoppò con un pezzetto di seta tagliata da un vecchio ombrello di un altro colore. Il giorno dopo Ray l'andò in ufficio tutto con punto, con l'ombrello rammendato. Lo posò nell'armadio e non ci penso più, come ci si scorda ad un brutto episodio. La sera, appena tornato a casa, la moglie gli strappò l'ombrello delle mani. Lo aprì per controllare. Rimase senza fiato, di fronte a una catastrofe irreparabile. Era tutto crivellato di buchetti, evidentemente bruciature dovute allo svuotamento di una pipa accesa. Era rovinato senza rimedio. Lo contemplava senza una parola, troppo indignata perché qualche suono potesse uscirle dalla gola. Rimase sgomento anche Orel alla vista di quel disastro. A bocca aperta, lo sguardo ebete. Annientato. Si guardarono, lui abbassò gli occhi. Si prese sulla faccia l'ombrello che lei gli aveva scagliato e in un impeto di furia lei urlò con voce ritrovata. Canaglia, canaglia, l'hai fatto apposta, non è vero? Ma me la pagherai. Niente più ombrello. E giù un'altra scenata. Alla fine, dopo un uregano durato un'ora, lui poteva spiegarsi. Giurò che non ne sapeva nulla e che quella doveva essere una cattiveria o una vendetta. La scampanellata ad un amico che era stato invitato a cena fu una liberazione. La signora Orel sottopose il caso al nuovo venuto. Comprare un altro ombrello non era assolutamente ammissibile. Orel se lo doveva togliere dalla testa. Ragionevolmente l'amico obiettò. In questo caso, gentile signora, suo marito si rovinerà i vestiti che costano molto di più. La donnetta, sempre furibonda, rispose. Compreremo un ombrello andante, ma di seta non se ne parla. A quest'idea si ribellò Orel. Allora io darò le dimissioni. Mandare al ministero, con un altro ombrellaccio qualunque, mai. L'amico propose. Fare ricoprire questo non dovrebbe costare tanto. Fuori di sé, la signora Orel proclamò balbettando. Ci si vorranno almeno, almeno otto franchi per farlo ricoprire. Otto e diciotto fanno ventisei franchi. Ventisei franchi per un paracqua. È pazzia pura. È roba da manicomio. L'amico, modesto borghisuccio, ebbe un'idea. Fatevelo ripagare dall'assicurazione. Le compagnie rifondono i danni degli oggetti bruciati, purché siano bruciati in casa. A questo consiglio, la donnetta si calmò immediatamente. E dopo aver riflettuto, disse al marito. Domani, prima di andare al ministero, passa negli uffici dell'assicurazione la materna. Fa vedere come è ridotto l'ombrello e chiedine il rimborso. Il signor Orel ebbe un sussulto d'orgoglio. Mai e poi mai. Vuol dire che saranno stati diciotto franchi buttati. Non moriremo per questo. Il giorno dopo uscì col bastone. Era bel tempo, per fortuna. Sola in casa, la signora Orel non riusciva a darsi pace per aver perduto quei diciotto franchi. L'ombrello era sul tavolo della sala da pranzo e lei gli girava attorno senza riuscire a prendere una decisione. Il pensiero dell'assicurazione le tornava in mente di continuo, ma neanche lei aveva il coraggio di affrontare gli sguardi ironici dei funzionari che l'avrebbero ricevuta, perché davanti alla gente diventava timida, arrossiva per un niente, impacciata anche semplicemente nel dover parlare con persone che non conosceva. Tuttavia il pensiero dei diciotto franchi bruciava come una ferita. Cercava di non pensarci più, ma cercava di non pensarci più, ma l'assillo del danno patito tornava, trafiggendola dolorosamente. Che cosa fare? Passavano le ore e lei non si era ancora decisa. All'improvviso, come i vili quando fanno gli spavaldi, ruppe ogni indugio. Ci andrò e la vedremo. Prima però doveva preparare l'ombrello in modo che la sua perdita fosse completa e la causa facilmente sostenibile. Prese un fiammifero dal caminetto e fece tra le stecche una bruciatura larga quanto una mano, poi arrotolò con delicatezza quel che restava della seta, la fissò con un elastico, prese lo scialle e il capellino e si diresse a passo veloce verso lui della Rivoli, sede dell'assicurazione. La mano a mano si avvicinava rallentava al passo. Che avrebbe detto? Cosa le avrebbero risposto? Guardava i numeri accanto ai portoni. Ne mancavano ancora 28. Molto bene. Così aveva tempo di riflettere. Camminava sempre più lentamente. A un tratto trasalì. Ecco il portone su cui a lettere dorate brillava la scritta. La materna. Società di assicurazioni contro gli incendi. Di già. Per un attimo si fermò palpitante, piena di vergogna. Passò oltre. Tornò indietro. Ripassò. Ritornò. Alla fine disse a se stessa. Devo andarci. Meglio prima che poi. Mentre entrava si rese conto che il cuore le batteva in tumulto. Si trovò in un salone interamente contornato da sportelli e ogni sportello si affacciava a una testa d'uomo, mentre il corpo era reso invisibile da una grata. Addocchiò un signore con delle carte in mano. Si fermò e gli domandò timidamente. Scusate, poteste dirmi dove si deve andare per il rimborso degli oggetti bruciati? Con voce sonora lui gli rispose. Ufficio Sinistri. Primo piano a destra. Quella parola, Sinistri, la intimidì ancora di più e le venne voglia di andar via, di lasciar perdere, di sacrificare quei 18 franchi. Ma pensero dei soldi le infuse coraggio e salì al primo piano, ansimando e fermandosi ad ogni scalino. Al primo piano vide una porta. Bussò. Una voce robusta disse «Avanti!». Entrò e si trovò in una grande stanza, nella quale tre signori dall'aria solenne, decorati della legion d'onore, stavano parlando in piedi. Uno di loro le chiese cosa desiderasse. Lei non trovava le parole. Balbettò «Vengo, vengo per un... per un sinistro». Con cortesia il signore le indicò una sedia. «Vogliate accomodarvi? Tra un minuto sarò da voi». E continuò a chiacchierare con gli altri due. «La società, signori, non si ritiene impegnata nei vostri confronti per più di 400.000 franchi. Non è possibile accettare la vostra richiesta di ulteriori 100.000 franchi e, d'altra parte, le perizie». Uno degli altri due lo interruppe. «Basta, non ci resta che andarsene. Sarà il tribunale a decidere». Uscirono dopo un cerimonioso scambio di saluti. Se avesse avuto il coraggio di andarsene insieme a loro, lo avrebbe fatto. Sarebbe fuggita lasciando perdere tutto, ma non poteva. Ritornò il signore compito. Si inchinò e disse «Che posso fare per voi, signora?» Rispose con fatica «Vengo per... per questo». Il direttore chinò lo sguardo con sincero stupore verso l'oggetto che lei porgeva. Cercava di allentare l'elastico, ma le tremava la mano. Con qualche sforzo ci riuscì e aprì improvvisamente lo scheletro sciencioso dell'ombrello. Con tono di compatimento il direttore osservò. «Mi pare ridotto male». Con esitazione lei disse «Ma è costato 20 franchi». Lui si stupì. «Davvero? Così caro?» «Sì, era un ottimo ombrello. Volevo vi accertaste di com'è ridotto». «Sì, sì, vedo. Sì. Ma non comprendo come possa riguardarci». Lei si preoccupò. Forse la materna non rimborsava gli oggetti piccoli. Disse «Ma sei bruciato». Il signore non lo negò. «Questo lo vedo». Lei era rimasta con la bocca aperta, ma non sapeva più cosa dire. Poi comprese l'indifferenza dell'altro e aggiunse «Sono la signora Aurel. Sono assicurata alla materna e sono venuta a chiedere il rimborso del danno». Temendo un secco rifiuto, si affrettò ad aggiungere «Chiedo soltanto che lo facciate ricoprire». Il direttore perplesso rispose «Ma signora, noi non vendiamo ombrelli. Non possiamo incaricarci di questo genere di riparazioni». La donnetta cominciò a sentirsi sicura. Era necessario darsi da fare e lei l'avrebbe fatto. Non aveva più timore. Disse «Chiedo soltanto il prezzo della riparazione. La farò eseguire personalmente». Il signore sembrava incerto. «Signora, è cosa da poco. Non ci vengono mai chiesti indennizi per incidenti tanto trascurabili. Capirete che non possiamo ripagare fazzoletti, guanti, scope, ciabatte e tutte quelle piccole cose che tutti i giorni possono essere danneggiate dal fuoco». E si fece rossa. Sentì che cominciava a incollerirsi. «Ma noi, caro signore, nel dicembre scorso abbiamo avuto almeno 500 franchi di danni per un incendio nel camino e mio marito non ha chiesto niente alla società. Perciò è giusto che questa volta mi sia ripagato l'ombrello». Il direttore, subodorando la menzogna, disse sorridendo «Cara signora, dovete riconoscere che è molto strano che il signor Orel non abbia chiesto nulla per un danno di 500 franchi e ora venga a riclamare 5 o 6 franchi per la riparazione di un ombrello». Lei non si scompose e insistette «Chiedo scusa, il danno di 500 franchi riguardava il portafogli del signor Orel, mentre quello di 19 franchi riguarda la borsa della signora Orel e non è la stessa cosa». Il direttore comprese che era difficile liberarsi di lei e rischiava di perdere la giornata e allora domandò con rassegnazione «Raccontatemi com'è accaduto l'incidente». Lei presentì la vittoria e iniziò a raccontare «Ecco signore, nel mio ingresso c'è un affare di bronzo dove mettiamo bastoni e ombrelli. Tornando a casa l'altro giorno ci mici l'ombrello. Dovete sapere che proprio sopra c'è una mensolina dove teniamo candele e fiammiferi. Allungo il braccio e prendo quattro fiammiferi. Ne struscio uno. Ci lecca. Un altro. Si accende subito e subito si spegne. Ne accendo un terzo. Stessa fine». Il direttore la interruppe per dire una battuta. «Erano forse fiammiferi del governo?» Lei non capì, ma seguitò. «Forse. Fatto sta che il quarto prese e riuscì ad accendere la candela. Poi andai in camera per mettermi a letto. Ma dopo un quarto d'ora mi sembrò di sentire puzza di bruciato. Io ho sempre paura del fuoco. Ah, se mai ci dovesse succedere qualche cosa non sarebbe certo per causa mia. Specie dopo quell'incendio nel caminetto di cui vi ho parlato. Non vivo più». Allora mi alzo, giro, cerco, fiuto dappertutto come un cane da caccia e finalmente mi accorgo che sta bruciando l'ombrello. Si vede che verrà caduto dentro un fiammifero. «Guardate in che stato lo ha ridotto!» Il direttore si era rassegnato. Domandò «A quanto valutate il danno?» Lei rimase senza fiato. Non ebbe il coraggio di dire la cifra. Poi volle mostrarsi generosa. «Fatelo aggiustare. Mi rimetto a voi». Lui rifiutò «No, signora, non posso. Ditemi quel che volete». «Ma direi, direi che, ecco, facciamo così. Io di certo non è che voglio guadagnarci sopra. Facciamo così. Io lo porto da un ombrellaio che lo ricoprirà di seta buona e resistente. E poi vi mando la fattura. Va bene?» «Benissimo, signora. Siamo d'accordo. Ecco un biglietto per la cassa e così sarete rimborsata». Tese un foglietto alla signora Aurel che lo afferrò, si alzò e uscì ringraziando. Aveva fretta di uscire, nel timore che cambiasse idea. Per la strada svolazzava nella ricerca di un negozio di ombrelli che le sembrasse lussuoso. Quando ne trovò uno, di vistose apparenze, entrò e disse con molta sicurezza «Vorrei che mi faceste ricoprire questo ombrello con seta della migliore qualità. Usate quel che c'è di meglio. Io non vado al prezzo». Grazie.